Non volevo violentarla, sono stato frainteso. Sono queste le parole del ventotenne albanese davanti alla Jeep. Si è difeso dalle accuse mosse dalla giovane che ha raccontato tutta un'altra versione. La ragazza sotto shock ha riferito agli investigatori di essere stata aggredita violentemente, palpeggiata e presa per il collo. I due si sono incontrati in un parcheggio nei pressi del sottopasso ferroviario. Si conoscevano di vista e l'uomo ha fermato la ventotenne che in bicicletta stava rientrando da una serata con gli amici. Avrebbero trascorso un po' di tempo insieme. Fin qui sembra che le versioni coincidano. Poi le due versioni divergono ovviamente perché lui nega nella maniera più categorica di aver mai fatto proferte sessuali, né aver mai tentato di violentare questa ragazza. Dice che tutto si è trattato di un equivoco. L'avvocato Giorgio Pietramala di Venezia parla anche di quelle mani sul collo viste dai vigili del fuoco che hanno salvato la giovane. Questo gli è stato contestato dal giudice e lui ha risposto dicendo che si è trattato di un equivoco. Lui ha fatto un gesto che è stato mal interpretato dai pompieri che sono passati lì per caso quella notte. E cioè cosa voleva fare? Lui ha detto che voleva sostanzialmente evitare che questa ragazza potesse avere problemi con le macchine che stavano passando visto che lei camminava in mezzo alla strada. Il fermo del ventotenne è stato convalidato e nonostante il legale avesse chiesto la misura degli arresti domiciliari, il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere. Ora faremo il ricorso al tribunale dell'esame per poter cercare di dimostrare l'insufficienza di gravi indizi. Ora saranno importanti le immagini delle videocamere già acquisite dai carabinieri per ricostruire quei momenti. Intanto il ventotenne pregiudicato rimane in carcere. Nel 2016 il giovane albanese era stato accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e di aver pestato assieme ad una banda un camerieri facendolo finire in rianimazione.